Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare dell'Aprilia e lo facciamo sulla nuova Tuono 660, perché sono arrivate delle informazioni interessanti. Allora, vi ricordo che la Tuono 660 è la versione naked della sportiva bicilindrica 660 vista all'ultimo ECMA in versione definitiva. La Tuono era presente invece in versione concept. Diciamo che Aprilia ha fatto un po' come con l'RS, ovvero ECMA 2018, è arrivata l'RS in versione di concept e poi l'anno scorso l'ECMA è arrivata in forma definitiva e poi, verosimilmente, quest'anno dovrebbe arrivare nei concessionari. Fine di quest'anno oppure inizio 2021. Mentre per la Tuono, stessa cosa, l'anno scorso vista come concept, quest'anno arriverà in versione definitiva e poi l'anno prossimo si pensa che dovrebbe arrivare, è quasi sicuro, nei concessionari. Ci sono, dicevo, informazioni interessanti. Allora, sul discorso Tuono, avete visto qui le foto per rinfrescarvi un po' come era fatto il concept. Di fatto, sono arrivati i disegni depositati da Aprilia presso l'ufficio brevetti europeo. Ve li lascio qui di fianco. Sono tre disegni dove si vede la moto nella versione definitiva. Effettivamente cambia qualcosina rispetto alla versione concept. Allora, è successo quello che è successo, di fatto, l'anno scorso per la RS 660. Ovvero, Eco 2018 è arrivata la moto, in versione di concept. Estate 2019 sono trappelati in rete i disegni comunque depositati presso l'ufficio brevetti europeo. Vi ho fatto anche comunque un video, quindi c'erano comunque disegni che circolavano già prima che la moto arrivasse all'Ecma dell'anno scorso. E poi, Eco 2019 è arrivata la moto in versione definitiva, l'RS, ed era uguale ai disegni trappelati in rete pochi mesi prima in estate. Quindi, si ripete un po' il discorso per quanto riguarda anche la Tuono. Arriva all'Ecma dell'anno scorso, adesso sono arrivati i disegni comunque trappelati in rete e poi la vedremo così come i disegni, la vedremo a questo Ecma oppure durante una presentazione streaming. Perché vi ricordo che al momento l'Ecma è ancora in forze. Cioè, è quasi più un no che un sì al momento. Quindi, non c'è ancora nessuna certezza che l'Ecma quest'anno effettivamente si farà. Quindi, se ci dovesse essere, vedremo la versione definitiva così come è nei disegni a questo Ecma. Se no, probabilmente franno aprilia farà qualche evento tipo i streaming oppure per la stampa per presentare comunque la moto. Allora, differenze dai disegni al modello comunque visto all'Ecma dell'anno scorso, il Concept. Effettivamente sono pochi, cioè le moto sono molto simili, quindi un po' come per le RS Concept e RS versione finale. In questo caso abbiamo una carenatura sotto al motore che da disegni sembra più avvolgente e sembra comunque inglobare parte anche dell'impianto di scarico. E poi lo scarico stesso sembra essere un pochettino più grosso rispetto a quello visto sul Concept all'Ecma dell'anno scorso. Questi qua sono gli unici piccoli dettagli che cambiano. È una buona notizia perché comunque l'atuono vista all'Ecma dell'anno scorso era semplicemente bellissima. Cioè, sembrava di vedere quasi la RS, però con piccole parti di carena mancanti. Cioè, è una moto veramente bellissima l'atuono e secondo me potrebbe a giusto prezzo avere un buon successo. Allora, vi ricordo un po' come è fatta questa moto? Per chi magari non sa ricordarsi più, parliamo comunque di una moto che deriva dalla RS, quindi dalla versione tra virgolette sportiva dell'Aprilia. È un motore bicilindrico 660 con una potenza di 95 cavalli. Vi ricordo che l'atuono vista all'Ecma è annunciata in versioni patente 2, quindi la versione full power, l'unica versione disponibile, ha 95 cavalli. È una moto che potrà essere depotenziata ovviamente a 48 cavalli e poi con la patente A3 potrà essere riportata a potenza piena. Quindi al momento Aprilia ha annunciato solo la versione patente 2 dell'atuono, quindi non è assolutamente garantito che possa arrivare in futuro una variante patente A3, anche se io ovviamente lo spero. Allora, della potenza verodetta, parliamo un po' dell'elettronica. Il punto forte di questa moto sarà l'elettronica. Allora, in tanti lo spaziano per punto forte, secondo me è un punto debole perché è tutta roba che a mio parere non serve che va ad alzare il prezzo. Comunque, parliamo di una piattaforma elettronica effettivamente mai vista su una moto di questo tipo perché abbiamo quasi la piattaforma PRC dell'Aprilia a completo. Abbiamo engine brake control, controllo del freno motore, abbiamo un piattaforma inerziale a 6 assi, abbiamo la traction control, abbiamo il controllo dell'impennata, abbiamo 5 mappature motore e abbiamo a memoria anche il cruise control perché dovrebbe essere ereditato dall'RS e poi qualche altro controllo. Comunque sia, parliamo comunque di controlli molto avanzati, a mio parere è troppa roba comunque per una moto da 95 cavalli. Cioè, va bene che va in mano comunque gente poco esperta, però mettere tutta quella roba antibennata su moto patente A2, secondo me, vai solo ad alzare il prezzo. Cioè, fai comunque la figura del wow Aprilia a questa moto così avanzata elettronicamente, però di fatto è tutta roba inutile. Comunque, diciamo, parliamo di una moto bicilindrica da 95 cavalli, ecco, non è che se avesse gran manico per tenere sotto controllo la moto, soprattutto se poi era di potenza a 48 cavalli. Quindi secondo me è troppa roba e secondo me va comunque ad alzare troppo il prezzo. Questo è quello che penso io, ve l'ho usato questo discorso. Poi, quanto dovrebbe costare questa moto e quando dovrebbe arrivare sul mercato? Da questo lo possiamo capire da un'intervista che hanno fatto recentemente al responsabile, comunque, progetto Aprilia per quanto riguarda la RS e la Tuono. Allora, quando arriva questa moto, ve l'ho detto, entro a fine quest'anno, la vedremo comunque in versione definitiva, in qualche modo, all'Economy Streaming. L'anno prossimo, entro comunque la stagione 2021, quindi entro, come va a avere estate dell'anno scorso, dell'anno prossimo, sarà liberamente acquistabile. A che prezzo? Allora, discorso prezzo non c'è una cifra precisa, però sempre durante questa intervista, appunto questo responsabile dell'Aprilio ha parlato di una cifra al di sotto della doppia cifra, insomma al di sotto di 10.000 euro. Però ha anche aggiunto, sarà comunque un prezzo sotto la doppia cifra, quindi sotto 10.000 euro, però avrà un prezzo adeguato per i contenuti che offre, ciclistica e elettronica. E a questo punto, facendo uno più uno, sembra essere comunque sottointeso che il prezzo non sarà 10.000 euro, ma saremo comunque lì, no? Cioè, dire, sarà sotto i 10.000, però comunque avrà un costo adeguato, vuol dire che comunque la moto costerà tanto. Quindi, sarà comunque attorno ai 10.000, magari avremo 9.500 euro. Ecco, questo sarà verosimilmente il prezzo di questa moto. A Spanne hanno detto che il prezzo dell'RS sarà di 11.000 euro, questa moto quindi ovviamente se non la naked costerà un pochettino di meno. E vediamo un po' se potrebbe essere interessante a questo punto, no? Facciamo qualche considerazione. Allora, io credo che la Tuono sicuramente sarà più interessante rispetto comunque all'RS, perché avrà un costo minore rispetto all'RS, ma sarà una moto che di fatto andrà tanto uguale. Cioè, non ha la carena, quindi non avete la penetrazione aerodinamica, non avete il sistema di doppia carenatura dell'RS, ma voglio dire, tanto sulle strade, più di tutto non si può andare, quindi della doppia carenatura che va a simulare l'elettro aerodinamica, ve ne fate poco o niente, quello che c'è sull'RS. Quindi ecco, ho anche una versione naked, secondo me è interessante, il motore è sempre lo stesso, la potenza più o meno è sempre la stessa, da 95 al 100 della versione full power dell'RS cambia poco, quindi avrete una naked con l'elettronica, la ciclistica dell'RS, però senza giusto la doppia carenatura. Quindi secondo me è interessante e soprattutto che andrà a costare meno, comunque sotto i 10.000 euro. Tutto sta nel vedere un po' secondo me la risposta del mercato, ovvero, questo è un discorso che vi farò comunque più avanti in un altro video, perché comunque ho raccolto un po' di dati dall'Europa e vi voglio fare un video dedicato appunto all'Aprilia. Però Aprilia come marchio in sé ha perso parecchio, nel senso che non è più un discorso di dire Aprilia è a livello magari di Ducati, no, è a livello magari delle giapponesi, cioè in tanti vedono marchi Aprilia un po' come un marchio inferiore, in tanti non si fidano neanche più a comprare le Aprilia. Quindi ecco, non sono sicuro che mettere una Tuono 660, per quanto bella possa essere, per quanto avanzata possa essere, al prezzo di una Duke 790, non so quanto possa convenire comunque all'Aprilia, perché la moto può anche uscire bella, può anche uscire prestante, però poi alla fine se non le vendi rimane comunque un progetto, un flop, no? E quindi non sono sicuro che mettere a 9.500, 9.000 questa moto, che è il prezzo più o meno della KTM Duke 790, possa essere conveniente. Cioè in questo settore qua, in questo segmento, patente 2, per esempio la moto che vende di più la Naked è la Honda, la CB650R, che è una moto che non sta al passo della Tuono 660, ma neanche della KTM Duke 790, no? Però è una moto che ha un vantaggio, ovvero è una Honda e costa meno comunque della KTM. E la Honda vende tanto in Europa, la KTM comunque in tutti i mercati vende un pochettino di meno. Cioè anche, ci sono alcuni mercati dove la KTM vende molto di meno. In altri, per esempio in Germania, comunque la moto vende un pochettino di più. Ma comunque la Honda è una moto che vende sempre di più. Questo perché? Perché comunque, patente 2, parliamo di ragazzi che non hanno molta rispondibilità economica, spesso si fanno aiutare dei genitori, spesso è una moto che costa ai genitori, quindi alla fine guardano più al lato risparmio. La Honda è una quattro cilindri, la Honda è una Honda, costa 8000, e vanno ad acquistarsi una moto che costa meno, è più affidabile magari come marchio rispetto a una KTM. Quindi ecco, discorso Aprilia, non so quanto convenga all'Aprilio uscirsene con una moto che vada a costare così tanto, perché non può contare neanche sul marchio, cioè, ve lo posso garantire, perché comunque ho visto i lati di vendita, Aprilia non può più contare nemmeno su quello, cioè neanche sul marchio, cioè uno dice acquisto l'Aprilio, acquisto il top. Ecco, attenzione perché c'è un po' un cambio di tendenze in questa cosa, ovvero che l'Aprilio viene vista ultimamente un pochettino come marchio poco affidabile. E questo lo riscontro anche perché spesso mi chiedete consigli su Indirect, no? Su Instagram mi chiedete o mi consigli l'Aprilio, Dorso Duro 900, oppure la KTM o la Ducati. Però KTM o Ducati nessuno mi chiede niente. Quando consiglio l'Aprilio e la Dorso Duro, che è una moto che state vedendo qua dietro, che ho provato l'anno scorso, le domande sono, ah però Aprilia, è vero che è italiana, è bella ma è affidabile. Ecco, quindi come percezione di marchio l'Aprilio ha un pochettino perso rispetto alle altre case. Ecco, quindi il suo caso di discorso è, non sono convinto che sesso prezzo, una KTM e un'Aprilio, la gente vada ad acquistare un'Aprilio solo perché è più bella e avanzata tecnologicamente. Secondo me la gente continuerebbe ad acquistare comunque la Honda. Il mio consiglio per l'Aprilio, se qualcuno dell'Aprilio mi sta ascoltando, è di togliere qualcosa a livello di elettronica e abbassare il prezzo. Cioè, tenete tre mappe motore e basta di questa moto. L'ABS, cornering e tre mappe motore. Togliete il resto perché non serve a niente. Cioè, su moto, la patente 2, tutta quella elettronica non serve a nulla se non comunque ad aumentare il prezzo. La gente le moto se le acquista, se comunque le sa guidare. Cioè, è inutile che cerchiamo di dare in mano delle moto, delle persone che non sanno guidare, gli diamo in mano dei controlli elettronici per cercare comunque di non farli capottare in strada. Cioè, comunque sia la gente che acquista le moto deve saperle guidare di principio. Cioè, non è che avere un'antipennata comunque permette a chi non sa guidare una moto di non farsi mai male. Perché comunque l'elettronica non va sempre in aiuto del pilota. Se il pilota è poco esperto, in qualche modo comunque rischerà di cadere lo stesso. Quindi il mio consiglio è questo. Eliminare cose superflue come il Curious Control, come l'Engie Brake Control, come l'antipennata. Lasciare giusto l'ABS e mettere tre mappe motore. Secondo me è più che sufficiente e già si abbasserebbe comunque il prezzo della moto. Magari anche di un 500-600 euro. A quel punto avremo CV650R 8000. Aprilia, tuono, magari sugli 8700-9000. KTM Duke a 10.000 euro. Però non rischiare lo scontro diretto KTM-Aprilia. Perché secondo me Aprilia ne uscirebbe con le ossa rotte. Comunque, di questo poi ve ne parleranno in un altro video opposto sull'Aprilia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa tuono. Fatemi sapere se l'aspettate. A livello design comunque la moto è bellissima. Questo ve l'ho sempre detto. Cioè, a me piace la mattina, la tuona è veramente bellissima. Spererei in una versione più potente, patente A3 con più cavalli però. 105 cavalli per comunque andare a livello della Duke 790. Anche perché, poi chiudo, la gente, se vede comunque a listino una tuono 660 con 100 cavalli e una KTM Duke 790. Parliamo di ipotetiche versioni full power, no? Cioè, quindi un'ipotetica tuono 660 annunciata di versioni patente A3, quindi 100 cavalli come l'RS e una Duke 790 full power, non la versione L. La gente a listino vedrebbe queste due moto a tuono, full power, 100 cavalli. KTM Duke 790 105 cavalli, quindi 5 cavalli in più. La gente fidatevi che acquisterebbe di più la KTM, nonostante comunque magari Aprilia abbia un'elettronica più avanzata e una ciclistica migliore, perché la gente va a vedere giusto i cavalli, la maggior parte. Quindi ecco, già lì per questo io direi l'Aprilia di rivedere un po' il motore e cercare di tirar fuori qualche cavallucci in più. Fatemi sapere nei commenti cosa avete pensato. Lasciate un like se non ti è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e con lo Instagram, il DnLvacare Ufficiale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Autore dei sorrisi